ti piacciono le sfide cosa riesce a fare in 30 secondi facciamo partire il cronometro e scopriamolo e questa festa è davvero bella ma lei quando è arrivata alito può andare e sofia ma che bello vederti oh brian sta facendo la sua mossa oh ehi ma che problemi ha sofia vieni qui non voglio che ha da me la prenda ehi qua giù ehi non abbiamo finito sofia ehi che c'è ragazzi volete sfidarvi perfetto che ne dite di un bel cheeseburger doppio sembrano deliziosi ehi non ho detto che potevate mangiarli non sapete le regole siete appena entrati nella sfida dei 30 secondi pronti 1 2 3 via vincerà brian o adam sarà il maestro mangiatore questo è lo spirito tutto in un boccone devi essere più veloce brian forza adam ci sei quasi ancora tre secondi sembra che chi va piano ma sano e lontano riesci ancora a respirare adam che sono queste mollette dobbiamo stendere il bucato stupidi sciocchi le attaccate vedete quante ne potete attaccare in 30 secondi signori iniziate oh ma fa male non le sopracciglia quanto ancora non fa così male non fa così male alla faccia di plastica o cosa non fa neanche una smorfia anche brian non è da meno come ci riesce ancora un secondo oh cavolo è stato massacrante mi fa male la faccia per niente nervosi per la prossima sfida forse è meglio saltarla ehi ragazzi andate da qualche parte perché andare via quando ci sono tantissimi marshmallow ma non li mangerete mica dovete riempirvi le guance ma davvero ci sto pronti via almeno sono morbidi basta infilarli tutti attenti a non soffocare oh brian caspita che bocca ma sembra che adam stia recuperando bene siamo quasi alla fine no non bastano ce l'hai fatta adam e la folla impazzisce questa competizione stancante buongiorno brian tieni questo biscotto ok prendine uno anche tu niente mani solo i muscoli del viso e se cade si ricomincia da capo il controllo delle sopracciglia e la chiave e battere gli occhi velocemente aiuta quasi sento già il sapore dai scivola vieni biscottino e proprio a un attimo dalla fine sono stato io a vincere che sfida stupida mi sa che devo allenare i muscoli del viso sarà per la prossima volta ma che fate confabulate non c'è tempo per questo qualcosa mi ha colpito in testa ma che cos'era insomma come dicevo non mi ha nemmeno richiamato ok qualcosa mi ha davvero colpito in testa ehi mi ricordano qualcosa sono castagne tiratele in aria e prendetele in questo modo avete capito via e la prima è andata wow adam è bravo il naso ma perché è così difficile wow beh ora basta ora ci penso io diamoci dentro wow ma quante sono sì sono il vincitore sì vabbè ma perché l'hai fatto fai clic su iscriviti per altri video fantastici ci sei quasi sì grande ora non perderai più nulla ma cos'è questa roba no non può essere non ci truccheremo mica vero no non esiste invece sì buon divertimento ragazzi cominciamo con questo ehi immagino che si metta così forse adam ha un approccio migliore o forse no non me lo sono mai messo prima è fard giusto ho sempre voluto sopracciglia belle piene oh ma questo sembra pericoloso mi sa tanto che gli serve uno specchio non sono sicuro che questo colore mi doni ma fa niente in realtà mi piace fortunatamente mancano ancora pochissimi secondi non male non male accidenti dovresti vederti no sul serio fate paura sorridete per instagram ma cos'è quel suono sofia che c'è mai visto un palloncino è il tuo turno pronti partenza via quanti palloncini riesce a gonfiare in 30 secondi senza farli volare via wow adam non svenire ok posso farcela respira piano e costante nooo sto arrivando ehi guarda dove spari quel coso ah ah cosa non bello amico perché gonfiarne solo uno sta diventando stancante ho ancora un pochino di fiato lasciamo perdere perché tutto gira forse è meglio se mi riposo vi piace la coca cola? ma quanto? abbastanza per creare una piramide? che ne dite? dai che ce la facciamo aspettate ragazzi non pensavate mica che sarebbe stato così facile ecco qua e una è per te adam via non pensavo che costruire piramidi fosse così complicato e a quanto pare serve anche la vista ce n'è ancora una lattina ehi mi serve deve esserci una soluzione tipo rubarla e io ho finito wow ce l'ho fatta ma è uguale alla tua complimenti bel pareggio allora sofia chi vince? il sicuro adam o l'ingegnoso brian? accidenti non è semplice ehi ma quello chi è? non l'ho mai visto all'improvviso sento le farfalle nello stomaco ciao ciao beh sembra che non abbia vinto nessuno riusciresti a fare una di queste acrobazie in 30 secondi? condividi questo video con i tuoi amici e sfidali e non dimenticare di iscriverti al canale youtube 123GOBOYS per altri video esilaranti ciao